www.feyyaz.tv E' subito il palo, clamoroso da parte di Aprea, veramente un bel palo, sfortunato ho qui A strillo, Michele, Michele, Michele Se per fuori vi potete chiamare, attenzione Mauro, il coppo di testa, c'è il rovere che esce, chiamiamo Michele Michele, Michele Adenzione adesso Aprea Fones Tiro di Fones, falla fuori E digi che è urgente Adenzione, Veroni Turino, Veroni Veroni sbaglia Valle laterale Batte Turino Cross avanti Cestino Mauro Valle avanti, fuori Valle laterale Valle laterale Provere Serve No, no, no Di che deve venire a vedere qua Andiamo a far vedere questa telecamera Che ha dei piccoli problemi Palla Valle laterale Michele Basta la pena sul campo Cosa? Adesso c'è un fallo trale per gli Old Lions Palla e mezzo Non arriva Cautini, spaccata Balla Alla palla Goressante Per i Merengues Romere Si prende la palla a Prea Palla che arriva comunque al portiere Pones 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 Potenzione Palla, avanti Riesce Protezione Mastrillo non riesce a soffare Sieno riesce ma ora se il pallo è lato di Sieno vediamo se c'è subito c'è subito la munizione per Sieno Vittorio è difficile avere un bel lame è importante allora c'è una punizione interessante e dici che è importante Mauro il tiro rovere e poi Zerpe cerca di coprire il cameraman Turino ballavanti Turino cross avanti Mauro riesce il colpo poi Cautiero lo allungassava all'avanti all'avanti c'è Sieno Sieno contro il portiere Sieno il tiro Veroni con la Sieno e il tiro poi è di Vaccaro che è appena entrato posso di Zerpe se non sbaglio così Mauro Castrillo il dribbling non riesce rossa 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 guarda Andrea pones avanti per Aprea il tiro di Aprea balla fuori abbiamo una punizione per i merengues Baccaro il tiro il tiro Veroni va da fuori con il piede cross il tiro di Bones parla che fesce a rovere rovere Aprea Aprea Mauro bianca scaglio della Sieno e Fones Sieno palla avanti bravo qui Pastrillo va essere stato un buon acquisto Sieno 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 di Sieno palla fuori a ognuno 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 Baccaro bravo qui rovere a palla avanti una ma non esterna in campo aprea troppo lunga ognuno ognuno uno solo uno solo Veroni rotta con gli attaccanti Mastrillo tiro di Mastrillo palla fuori prossima palla il cambio eh prossima palla fuori il cambio palla avanti esce Veroni belle è uscita il portierone vediamo c'è un cambio entra Serpe esce Gaetano Sieno Serpe palla che finisce a rubere attenzione a rubere Serpe palla che non riesce a andare a riparare da Prea Palla che finisce Mastrillo Palla che finisce tra le mani di Veroni uno Torino Mauro Mauro lo scatto c'è Fones c'è Fones Fones in dribbling Aprea Aprea tra le mani di Veroni deriato il tiro lo porta avanti Mastrillo molto bene palla anche per i Merengues palla per i Merengues palla per vediamo palla per i Merengues ancora Mastrillo c'era Serpe che aspettava il pallone Mastrillo contro la bene il portiere Mastrillo Riccio perde palla contro Aprea 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 il tiro ancora Veroni che sicurezza questo Mastrillo sbaglia Turino va caro contro Turino va caro Davo Turino qui a fermarlo tiro di Fones palla fuori a caro al mezzo Riccio ferma questo tiro Turino si complica la vita con Aprea sbaglia Aprea qui Mauro Mauro lo scatto contro Serpe Mauro Mauro la pinta su Serpe il tiro che gol che gol spettacolare ecco questo sono dieci sono dieci in campionato per lui veramente un gol adornato questo numero nove un gol fantastico un dribbling assolutamente pazzesco un tiro dove il portiere non poteva nulla attenzione Pones contro Mauro Serpe esce nello stop Napolitano Veroni Mastrillo 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 niente di cattivo qui niente di cattivo dai Mauro spriccio se posso ripartire con i Demerengues Napolitano dietro al portiere avanti Serpe il tiro mamma mia un gatto questo portiere il tiro veramente stupendo altrettanto la parata Rapones Porta con Napolitano Pones mette a sedere Napolitano Pones ancora Aprea Aprea non aveva visto che come era caduto Veroni Mastrillo 12 minuti massimo alla fine di questo primo tempo che invece nonostante le aspettative c'è solo un gol in questo primo tempo partita molto combattuta da ambo i lati attenzione Serpe contro Napolitano Napolitano controlla vanno un palleggio all'avanti Riccio Stoff Riccio vede il compagno scattare Gli ha dato troppo forte vediamo i suoi tiri vediamo i suoi tiri vediamo i suoi tiri con urlo Serpe Serpe contro Mauro Pones Pones Pestrillo Pallavanti Ci sono io Cambio valla E fa che? E' nel movimento E' nel movimento E' nel movimento Pones E' girato con altri Rubere Poi 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 Aprea il tiro Poi laterale 0 per Piedola S Poi 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 C'è il fallo 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 Aprea 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 Bellissima giata su Napolitano Bellissima Aprea qui E poi Viene fermato Attenzione Astrillo Gamba tesa Comissione Peri Merengues 8-9 minuti alla fine di questo primo tempo Manuele Il telefonino Fatelo dare la Bellame Vediamo se lo batte Serpe Lo batterà Fones Serpe Alta Sbagliano i passaggi a difesa qui Quei dei Olde Lions Aprea il tiro Veroni con una mano Facile Cambio vediamo Entra Sieno Entra Sieno Esce Fones Dall'altra parte Esce Mastrillo Ed entra Annunziata Il tiro C'è il gol Di Aprea Allora Allora Io ti dico una cosa Ci sono io Ah no il gol non è come ai danno Allora il tiro Bel ma Il gol ha fatto Mauro Si mamma mia Detto che c'è il fallo Gioca 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 C'è il tiro Alla portina del rovere Sieno Gioca 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 Il tiro Alla fuori Allora Minispatto per lui Ricominciamo con il telepolino Ed eccoci qui Si Mancano 4 minuti La prima di questo primo tempo Alla avanti Baccaro Aprea Aprea Un dribbling di Aprea Baccaro Il tiro Qua da Veroni Baccaro Annunziata Salva sulla linea Sieno palla avanti Troppo alta per Baccaro Aprea Aprea Con calma Occio 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 Sbaglia il passaggio Sbaglia il passaggio Poi Serpe Il tiro di Serpe Palla fuori Annunziata Sbaglia il passaggio Annunziata Aprea Palla fuori Rimaniamo sull'1-0 Dopo il gol annullato Ai merengues Legione sbaglia Veroni Il tiro di Aprea Attenzione Mauro Sieno per rovere Palla avanti Baccaro 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 Attenzione Baccaro Il tiro Il tiro E palla fuori Di Serpe E se adesso i merengues Si stanno arrabbiando Vogliono il gol A tutti i costi Palla avanti di Veroni Per Mauro Mauro Palla laterale Per gli Old Lions Baccaro Baccaro Bianca Invece no Sarà per i merengues E se stanno parlando Baccaro Portava annunziata Palla per gli Old Lions avanti napolitano, palla per Mauro, un tiro al volo, palla nettamente fuori mancano circa un minuto e mezzo, un minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo bianca, serpe, serpe, bel dribbling, il tiro fuori manca un minuto alla fine di questo primo tempo ricordate che i tempi sono da 27, no 27, non sono da 30 i minuti sono 27 per ogni tempo fones, tiro di fones, c'è il gol dell'1-1, sotto il gol c'è ed è valido 20 secondi, 20 secondi alla fine di questo primo tempo e l'arbitro deve sentire Mauro, lotta, fones, sieno, 10 secondi sieno, sieno si allunga la palla il dribbling fantastico e poi il tiro Mauro, eh sì, praticamente è finito il primo tempo aspettiamo il fischio dell'arbitro, all'avanti serpe, fuori finisce il primo tempo e andiamo a fare un'intervista veloce veloce possiamo iniziare, il telefono ha dato qualche problema Maccaro, dribbling, Riccio, Riccio, lotta benissimo Riccio Mauro, Riccio tiro, palla fuori no calcio d'angolo, calcio d'angolo il prossimo, il prossimo, il prossimo, il prossimo il prossimo, il calcio fuori ma Mauro, palla in mezzo fones ora Mauro per l'impatto sull'arbitro fones, fones dai una mano, dai, 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 chiudi, chiudi aprea che segna, 2 a 1 faccio il scopo, dimmi c'è il 2 a 1 proprio la doppietta di aprea se non sbaglio tiro, dietro da centravanto, fonesce d'angolo stopperà il video ogni 5 minuti onde evitare altri problemi col telefono il tiro di Torino provere, con calma serpe, serpe ciro ciro lezione buona va a caro, va a caro e vai a dire il cammino da gioco mua dai, vai a me alza la merita azione cautiero cautiero in mezzo Torino lotta con aprea chi ha la meglio fones fones si entra fones aprea tiro veroni e poi Torino spazza via c'è un cambio nel filo dei le merengue una fones Turino palla avanti cautiero bellissimo per Turino che tira un palonetto attenzione palla fuori di un soffio sembrava dentro addirittura c'è un cambio esce Torino entra Mauro possiamo iniziare allora rubere fones a caro all'avanti mettete le mani di Veroni all'avanti a strillo a buna per ca per caudiro eh voglia ci voleva atti quattro dieci minuti fatti quattro dieci minuti fatti quattro dieci minuti vai vai gioco dai a serpe serpe come si chiama ma prea coppola forex mi ha mai fatto mi ha dato a testa di gioco mi ha dato serpe non è mezzogliata alle mezzogliere non riesce ma strillo voto serpe serpe il tiro valla fuori non calma dai, non calma ora valla per Veroni guarda, 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 guarda bravo guarda, 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 guarda Mauro, contro l'avversario Mauro valla fuori, valla per gli Old Lions valla avanti Baccaro Bones con la spalla serpe, Bones ancora cross libera Riccio una rovesciata Baccaro Aprea riesce Mauro Mauro, fermato da Aprea Mauro Riccio Riccio contro Baccaro Riccio del tacco Mastrillo Mauro Mauro Amabegli Aprea Aprea Rimbengli Aprea C'è Capones lo trova, sarà a caccio d'angolo Caccio d'angolo interessante palla in mezzo lontanata palla fuori Baccaro va a battere questo palla laterale ricordiamo il potece 2 a 1 per il Merengues doppia di Aprea palla avanti Mastrillo dribbling il tiro di Riccio poi bene qui Cautiero Mauro 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 il dribbling serpe, bravissimo Mauro palla in mezzo e c'è il gol c'è il gol proprio di Cautiero 2 a 2 pareggio di Cautiero meno male che c'è spettacolo qui Mauro 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 con Giuseppe Mauro 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 esce benissimo Baccaro 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 Occio Occio Ivala Fones Fones si accetta Fones si allarga di nuovo Fones il tiro Veroni il nostro Ferguson Trujillo calcio calcio d'angolo calcio d'angolo tutto benissimo Aprea si accetta Aprea perde palla Mauro Cautiero Cautiero sbagliato il passaggio Baccaro Baccaro palla avanti Riccio Riccio palla per gli Old Lions che partita emozionante se non le sorricce poi Mauro Mauro bel dribbling il tiro palla fuori Baccaro la tiro in campo Baccaro e poi palla fuori messo a fondo per il portiere palla avanti Cautiero stopperon perfetto Aprea cambia per Baccaro che non riesce nello stop Riccio Baccaro esce Baccaro laterale per gli Old Lions Riccio allora si cambia con Serpe Sieno 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 Fones Fones contro tutti Riccio Aprea Aprea tre contro uno praticamente e Aprea sbaglia anzi viene fermato parola della Leberi Merengues cross Aprea Balla in mezzo veroni tranquillo Mauro contro Sieno Mauro Sieno bravissimo qui palla avanti Cautiero Cautiero 2 contro 2 Mauro ancora Mauro Mauro tira al volo di Fones fuori di poco partita tenendo emozioni due pari due pari è una bella partita alla pari alla pari chiedono di noccioline eh si infatti grazie oh gocchio c'è la pala fuori c'è la pala cerpe pones firmato la Cautiero voglio pones pones Aprea mezzo firmato la Mastrillo buono il taroncino facciamo un'angolo in mezzo Sieno prova il colpo di tacco quando manca? Ravio Giants 7 minuti non di più 7 minuti e mezzo 8 minuti 8-7 vabbè no però non dovrebbe essere tanto massimo un minuto di sentino è il gol di Mauro 3-2 e con questo va a quota 11 raggiungendo Rui 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 pareggiato da Mauro con 11 gol e questa casa sta facendo da molto meno di te attenzione è una partita è più forte di lui che invece è un attimo attaccante attenzione sta accusando io lo voglio bene pones passillo attenzione buona per Mauro hai firmato la Serpe? c'è il giallo e pensa che ci sarà già la Serpe puzzate di noccioline ma io puzziamo di noccioline questa produzione è molto interessante questo era gol se Mauro fosse andato in porta sono sicuro vediamo chi tirerà peggio Turino avvicinanza al pallone Turino il tiro palla fuori di fuoco Serpe Sieno Serpe Sieno Serpe allo laterale Sieno Mastrillo Mauro 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 Riccio 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 al tiro andalo 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 Andri Ivano 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 Riccio per i melengues Sieno Apriano riesce allo stupco ancora 7 minuti alla fine della partita 7 minuti avrei chiamato il cambio avrei chiamato il cambio signore scusa capito e tra la politano esce Turino Peroni Peroni bastrillo palla avanti palla avanti Sieno scatto Aprea poi Riccio prova il cross avanti per Mauro non riesce tira tiro di Faunes Murato fallo laterale per Perengues palla in mezzo Aprea tiro di Aprea palla fuori Mastrillo 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 vede Mauro il cross Mauro bravissimo Sieno ponesi il tacco sbagliato Mastrillo 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 Mauro Mastrillo ma la finta su Sieno non vogliono perdere quelli di Marengues la palla fuori Mastrillo Mastrillo cross ponesi non riesce Sieno rovere Aprea per la giocata Serpe ponesi il cross allontanato da Riccio Sieno palla fuori a Mauro non ancora vado i Marengues mini spot per noi ed eccoci qui con gli ultimi 4 minuti di questa partita c'è la punizione di Marengues fallo di mano a quanto pare vediamo come lo batteranno vediamo il pute 3 a 2 per gli old lions possono battere il tiro veroni miracolo Serpe battere Serpe Aprea 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 Sieno Sieno fermato per farlo per gli old lions anzi no fallo per i Marengues scusa manca 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 proprio 3 minuti e guarda a me 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 così mezzo allontanato da Riccio che sta disputando la partita veramente strepidosa Riccio che ne pensi lui per questi ultimi 3 minuti per quel poco che hai visto gli old lions stavo difendendo molto bene però che Marengues voglio ammino pareggiare questa partita infatti si vede tutti all'aria invagio passavanti ora annunziata Serpe Bones spazza ruvere ma c'è in drago Sieno Aprea Aprea sbaglia il tacco vuole partire annunziata Mauro annunziata fermato da Aprea buona annunziata invece esce l'uvere molto bene qui non fanno due minuti alla fine di questa match più eventuale recupera il tiro palla fuori la tira politana Sieno Bones Aprea Bones Bones si accentra Bones c'è il giallo per Riccio Bones 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 è pazzisco questo portiere un minuto alla fine di questo match appassionante e allora andiamo a goderselo fino all'ultimo cross Serpe Aprea Sieno esce Bones 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 più recupero naturalmente se vuoi darlo Bones Aprea Bones 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 che partita, ma questo Fones che giocatore che è? Fones risponde a Mauro con la portetta Fones risponde a Mauro con la portetta Fones ha fatto due culli Tenzione il tiro da centacampo Mi hanno detto che hanno fatto due culli Ecco qui, cinque secondi il tiro, palla fuori è proprio finito qui, diciamo vediamo se c'è il recupero ero due minuti di recupero, secondo l'arbitro due minuti di recupero 3 a 3 che è partita sinceramente non mi ricordo quanti gol ha fatto Fones? 2 gol Fones, 1 a Prea scusate, mi sono sbagliato prima, ho detto che ho petto da Prea Mauro Cautiero il tiro, palla alta Eccolo qui da Prea Sieno dobbiamo andare in mezzo a due riesce, messa a valla fuori da Napolitano manca un minuto e 15 3 a 3 vediamo cosa succede in questo minuto e 15 tiro di Serpe, rimpallato palla buona Sieno, rotta con Mauro palla avanti Fones, ottimo lo stop Fones Fones Serpe e c'è il 4 a 3 dei Marenghes e finisce qui la partita e andiamo a fare un'intervista a questo punto a qualcuno dei vincitori a 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